Benvenuti amici di iPhone Italia, io sono Giovanni, lui è Claudio, questo è il podcast di iPhone Italia, sigla! Ciao Claudio, ciao Giovanni, allora diciamo che cosa è successo poco prima di cominciare questa puntata, simpatica la cosa. Era una puntata che era partita sotto queste premesse, Claudio non perdiamo tempo perché abbiamo veramente troppe cose da dire, facciamo tutto subito bla 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 bla, dopo un minuto che parlavo di convenevoli, Claudio mi fa no aspetta un attimo che io mi sono dimenticato del premere il tasto registra, cioè non l'ha detto con questo dialetto però il senso era quello. E niente quindi abbiamo dovuto ricominciare da capo. Benvenuti a tutti, questo è il podcast di iPhone Italia, io sono Giovanni, lui è Claudio. E vabbè l'abbiamo capito. E questo l'abbiamo capito. E poi abbiamo capito l'entrata, io stavo cercando di spiegare a Claudio che ho visto un po' di video su YouTube di gente che fa tutto ciao benvenuti. Poi fa così con la mano davanti alla fotocamera, lancia la sigla e ho detto ma noi perché non lo dobbiamo fare? E quindi l'abbiamo fatto anche noi oggi. E quindi l'abbiamo fatto anche noi, anche se non c'entra una cosa fritta. Un nulla, un non nulla. Senti Giovanni, allora hai detto giustamente che c'è molta roba da dire, io partirei come al solito con iPhone 8, giusto per variare, dai, variamo. No, no. Così variamo. No, volevo, cioè questa è la mia imprevedibilità. Tu non registri e io do di imprevedibilità. Io volevo, me la concedi una premessa. Me la concedi una premessa. Non lo so. Hai paura? No, è una cosa seria. Boh, vabbè. Allora, io volevo ringraziare i tanti che ultimamente ci hanno scritto, tra cui Roberto e Flavio, ma sicuramente dimentico qualcuno. Perché Claudio? Perché Claudio? Tu adesso dovresti chiedermi. Perché ci hanno scritto? Perché? Anche a me hanno scritto anche un po' di persone. Ti dico chi, così li saluto anch'io. Eh, lo so perché me lo hanno detto. Ci ha scritto Silvio, Flavio, anch'io. Ci ha scritto Silvio. Infatti è invidata a cena. Ah, sì. Ciao Silvio. Sì, ciao Silvio. No, pensavo l'altro Silvio, Claudio. Ho detto, caspita. No, no. Mi ha scritto Flavio, quindi... Flavio. Mi hanno scritto un po' di... Tra l'altro mi cercano, diciamo, su Facebook Messenger le persone. Allora, infatti mi ferivo proprio un messaggio di Flavio che mi aveva scritto di aver scritto anche a te, per un motivo particolare. Perché negli ultimi giorni... Diciamo che qualche messaggino ogni tanto ci arriva, che a me fanno sempre... Cioè, vabbè, a me fanno sempre in generale molto piacere. Però questa volta mi ha fatto un pochino più piacere. Anche il messaggio, soprattutto, di quello di Flavio, ma ne ho ricevuti un paio simili la stessa settimana, che ci ringraziano per essere una fonte inesauribile, vabbè, ma questo poi chiaramente è esagerato, eh, di consiglie dritte su appassionati in ambito della tecnologia. Ci facevano i complimenti per il fatto che cercavamo poi di andare un po' oltre, di raccontare, di spiegare la tecnologia, che è un po' uno dei presupposti che ci hanno animato quando abbiamo cominciato questa vettura del podcast, che, come dico sempre, l'ha cominciata Claudio e su cui ero molto scettico. Quindi un grazie ancora mio personale a Claudio per averci creduto e per avermi coinvolto. E a me ha fatto particolarmente piacere perché magari un ascolto può essere più o meno gradevole. Poi lì sta la simpatia mia, soprattutto quella di Claudio. Cioè, uno come fa a non ascoltare un Claudio Sardà? Per me sarebbe incomprensibile, ma al di là di questo mi fa piacere se ci viene un po' riconosciuta quella mission un po' particolare che non è tanto il raccontarvi le notizie che pur no prende la gran parte dei nostri podcast, ma quello in qualche modo di cercare di spiegare, poi magari spiegare un po' presuntuoso da parte nostra, ma quantomeno di dare un punto di vista più tecnico che cerca anche di andare nel perché di alcune scelte, di alcune soluzioni o comunque di dare semplicemente una chiave di lettura magari meno immediata. Mi ha fatto piacere che qualcuno abbia notato questa cosa e concediatemi questi minuti che vi ho rubato per questo. mi ha fatto piacere, quindi volevo ringraziarvi e ringraziare ancora Claudio, perché senza Claudio Sardaro questo podcast non sarebbe mai stato andato in onda. No, Giovanni, ringrazio te e poi ti dico anche un'altra cosa, continuo, poi concludo anch'io. Per quanto io risponda tra virgolette poco a alcuni commenti, anche i commenti credo che siano un segnale di apprezzamento forte, diciamo, nei confronti di questa tipologia di contenuto che per quanto magari sotto tanti aspetti, in tanti denigrano quasi perché è troppo lunga da un certo punto di vista, effettivamente alla fine è l'unica che permette veramente di scendere un attimino più in profondità. non dico dire la nostra, ma proprio cercare di ragionare insieme riguardo magari qualche notizia in più che riusciamo a darvi tramite i phone Italia, come per esempio quella di oggi, perché io mi ricollego subito al discorso di oggi a questo punto, in quanto abbiamo avuto qualche dato su iPhone 8, iPhone 8 Plus. Giovanni, devi sapere che rispetto ai weekend di lancio degli altri iPhone a partire dal 5S in pratica, l'iPhone 8 ha raggiunto un livello di adozione del solo 0.3% e iPhone 8 Plus dello 0.4% rispetto a iPhone 5S che all'epoca, nel primo weekend, raggiunse l'adozione complessiva dello 0.9%. Quindi parliamo di percentuali sicuramente molto più basse rispetto a quelle del 5S. credo Giovanni, io non ho difficoltà a dirlo, è vero qui parliamo di percentuali, ma nel momento in cui c'è una goccia nel mare, se il mare è più grande la goccia è sempre più piccola, quindi anche il discorso di aver venduto e di avere sul mercato più dispositivi rende man mano più complesso il fatto che questi numeri possano crescere. Nello stesso tempo dobbiamo comunque ricordare che nel lontano ormai 2014 l'iPhone 6 raggiunse un'adozione nel primo weekend del addirittura 2%, credo che sia un dato veramente inarrivabile quasi, e il suo amico, diciamo così, iPhone 6 Plus lo 0.3%. Quindi lo 0.3% è meno dello 0.4% di iPhone 8 Plus e questo sa significare che l'iPhone 8 Plus è stato più acquistato dell'iPhone 8, quindi il piccolino, ed effettivamente Apple è stata premiata per il fatto di aver inserito delle funzionalità in più su questo dispositivo. Giovanni, quello che ti dico è che a me sembra che gli acquirenti di iPhone 7, iPhone 7 Plus e precedenti, oltre ad essersi magari spinti e più indirizzati verso le versioni Plus anche quest'anno, probabilmente non aspettano l'iPhone 10, mentre chi non ha acquistato l'iPhone 8 magari aspetta iPhone 10, quindi chi non ha acquistato l'iPhone 8 ma magari avrebbe acquistato o ha acquistato l'anno scorso l'iPhone 7 è proprio quello che non vuole un telefono più grande ma vuole più schermo e quindi cerca quel discorso di Borderless che effettivamente arriverà sul mercato di qui a poco. Questi dati infatti vanno retti sempre in chiave nel discorso che quest'anno l'iPhone 8 e l'iPhone 8 Plus non sono solo gli unici iPhone nuovi che vedremo nel corso di questi due mesi, ma sono solamente i primi due. I primi due che al momento sono praticamente facilissimi da acquistare, non dico ovunque ma quasi, e nello stesso tempo comunque sono dei validissimi device. Giovanni, non so, vuoi dirmi qualcosa in più e commentare qualche dato in più? Guarda Claudio sei stato ineccepibile, chiaramente quando fare le analisi sulle percentuali come hai detto giustamente tu è un casino perché ci sono tutte le variabili di mezzo. Una, questo è il percentuale sul market share di Apple e come dicevi tu se vendi 10 milioni e hai 300 milioni di dispositivi fai una percentuale, se vendi lo stesso 10 milioni ma poi quella base si è ingrandita e sono diventati 500 milioni è come se, cioè se guardi la percentuale hai venduto la metà in realtà hai venduto lo stesso. La base si è aumentata, sì, è vero parliamo della prima settimana, c'è da dire che soprattutto l'anno scorso a comprare i plus la prima settimana era quasi impossibile o quantomeno, finite quelle scorte amen, invece quest'anno l'adozione che è diventata più forte cioè sembra essere aumentata potrebbe essere anche frutto di una semplice disponibilità maggiore senza avere i numeri assoluti è molto complicato detto questo sicuramente siamo sui livelli del 5S come adozione il 6 fu una bomba come hai detto poi siamo andati via via scremando effettivamente se guardiamo il grafico la discesa sembra lineare tutto sommato nonostante tutte queste variabili io a parte queste considerazioni non parlerei comunque di flop perché effettivamente come notavi il plus tira parecchio insieme siamo arrivati allo 0,7 si ripeto in relazione al fatto che nello scorso anno per iPhone 7 plus siamo arrivati allo 0,2% quindi sicuramente anche lì la base è aumentata ma è aumentato anche l'acquisto del dispositivo a questo punto ne hanno venduti di più perché giustamente come dici ne avevano i plus è chiaro la tendenza si vede che stanno aumentando lo sapevamo già invece il 7 plus l'anno scorso a guardare la prima settimana sembrerebbe arretrare ma io sono sicuro che poi non è stato così se guardiamo le vendite globali è stato un flop ma a guardarlo così considerando che abbiamo un altro super dispositivo che ha catturato tutto l'hype di tutto un anno che è uscito il 7 e noi già parlavamo del famosissimo iPhone 8 non mi sembra un tracollo cioè non lo so non è che mi aspettassi queste grandi differenze il plus continua a raccogliere consensi e questo comunque sicuramente è una buona notizia per Apple è chiaro che l'iPhone X ti scombina un po' tutti i piani sul paragonare perché effettivamente manca poi quel dispositivo qua prendi la prima settimana chi compra nella prima settimana? gente che ha fatto il preordine quindi gente che ha comprato un telefono senza manco averlo in mano quindi l'iper appassionato quest'anno l'iper appassionato posso dire che quantomeno moltissimi ma poi nel nostro piccolo mondo lo vediamo tanti stanno aspettando l'iPhone X poi magari non lo comprano però quindi mi sento di dire che dobbiamo aspettare per riuscire a farci un'idea d'altra parte è anche vero che negli ultimi anni l'iper appassionato io ho visto uno shift sul plus moltissimi super appassionati hanno preso il plus il fatto che molti siano andati sull'iPhone 8 plus mi fa dire che forse non lo so cioè tu dici bene chi vuole il device più compatto magari non vuole proprio il padellone perché purtroppo il plus è così sta tenendo il ten d'altra parte molti iper appassionati se prendono il plus poi non prendono sicuramente il ten quindi vediamo però Giovanni ti faccio un esempio io non sto dicendo che comprerò l'iPhone X l'iPhone X però allo stesso tempo ho trovato la condizione giusta chiaramente per vendere il mio iPhone 7 ma allo stesso tempo avevo la curiosità di provare questo chip A11 Bionic che effettivamente come si legge molto spesso sul web tra le cose più nerd che ci siano è sicuramente la cosa più interessante dell'iPhone 8 io suppongo credo e sono certo del fatto che effettivamente questo dispositivo con quest'hardware abbia molto da dire l'ho detto e lo continuo a dire lo ripeto tanto non ho paura nel farlo credo che se non ci fosse stato l'iPhone X per quanto le cornici anacronistiche avrebbero molto probabilmente attirato le critiche di tantissime persone questo iPhone 8 avrebbe avuto veramente un gran successo è vero non è l'upgrade che ci si aspettava lato design ma è l'upgrade lato specifiche che Apple ci ha abituato a vedere insomma nelle versioni S dei dispositivi che arrivavano in questo caso c'è stato un piccolo passo avanti sia da un lato che dall'altro io l'ho scritto su Tech effettivamente per me questo è il dispositivo che sintetizza il mondo iPhone che abbiamo visto fino ad oggi e forse è la declinazione migliore in assoluto di questa tipologia di form factor ecco diciamo così e sicuramente si può parlare di maturazione dell'iPhone 6 ma è troppo riduttivo forse dire questa cosa credo Claudio sì abbiamo detto settimana scorsa tutte le considerazioni fatte su iPhone 8 anche guardando le recensioni di Andrea eccetera mi hanno solo che portato conferme in tal senso però ripeto se parliamo di prima settimana non posso io dico sempre di non ragionare quando parliamo di dispositivi sull'iper appassionato perché non è lui il mercato quantomeno è una parte molto piccola però se mi dai un grafico sotto mano della prima settimana è chiaro che mi ribalti molto tutto il ragionamento per cui devo ragionare l'iper appassionato e molti sicuramente il 10 lo stanno aspettando poi sulla bontà dell'iPhone 8 io l'ho detto e lo ripeto anzi se uno vuole andare sul sicuro iPhone 8 l'iPhone 10 avremo modo di parlarne adesso oggi sarebbe forse superficiale però anche lì si compra un po' anche un non minimo il prototipo nel senso che sarà immaturo però gestione delle app ma già a partire dalle app compatibili sicuramente si andrà a rilento siti internet ne parleremo un'altra volta insomma Giovanni l'ultimo dato che quindi voglio dare in base a questi dati che abbiamo riportato su iPhone Italia questa settimana è un dato interessante secondo me perché a settembre 2017 praticamente il giorno in cui è stato pubblicato questa statistica l'iPhone 7 è l'iPhone diciamo era l'iPhone più usato di sempre diciamo così più usato in questo periodo con un 20,02% di market share complessivo rispetto ai prodotti Apple seguito solamente dall'iPhone 6S al 19,92% è il primo iPhone Plus diciamo in classifica si piazza in quarta posizione sotto l'iPhone 6 che arriva al 18,8% con l'iPhone 7 Plus insomma al 14,34% ora vi ho dato semplicemente dei dati per farvi capire che per esempio l'iPhone 6 Plus non ce l'ha nessuno praticamente quasi in questa classifica da quello che sembra secondo me se lo sono dimenticati se lo sono dimenticato però vedi Claudio questo è carino perché abbiamo dato la prima settimana e poi abbiamo dato il totale un anno dopo due anni dopo vedi subito un anno e una settimana dopo l'iPhone 7 è una bomba poi dipende da quando sono usciti è chiaro che no tutti i discorsi sono a parte che leggo ah ok iPhone SC quindi vabbè questi che hanno fatto le statistiche non sapevano bene nemmeno i nomi ma a parte questo e o hanno sbagliato vabbè 5S secondo me vabbè e no credo sia il 5C comunque a parte questo ah 5C già già vedete che l'iPhone 7 Plus che noi dicevamo nella prima settimana ha venduto solo lo 0.2 in realtà è il quarto iPhone di sempre per vendite è molto molto alto più che per vendite Giovanni per adozione in questo momento non stiamo parlando di vendite complessive cioè dispositivi in uso in mano alle persone quindi tra tutti questi saranno quelli che hanno fatto gli switch vari tra i vari anni beh certo se è lì però qualcuno se lo sarà comprato questo iPhone per cui il 14% di adozione ad oggi tu hai un 6S Plus che ne ha il 7 nonostante poi abbia avuto un anno in più di vendite vuol dire che i Plus stanno crescendo come abbiamo detto il 7 Plus ha fatto super successo l'iPhone 6 super iPhone 6 il 18 e 8 voglio tornare su quello 19.9 e 20.02 di 6S e 7 guarda ecco questo per dirvi poi occhio alla prima settimana occhio questo è un dato a fare poi sempre i riferimenti sugli appassionati perché si sbaglia si sbaglia anche è vero che il 6S ha avuto un anno in più di vendite quindi ma com'è la iPhone 6 che di sicuro in questa classifica è stato penalizzato perché ci mettono una mano sul fuoco lo scorso anno di sicuro avevano un tasso l'azione è ovvio è ovvio perché poi sono usciti quelli dopo e l'oceano come diceva Claudio è cambiato però anche lì il 6S che se andate così a sentore era quello che aveva emozionato meno negli ultimi anni come solo una review del 6S bla 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 comunque se guardate oggi è il telefono più diffuso dopo l'iPhone 6 cioè ma sono lì sono esattamente come l'iPhone 7 e quindi è stato un grande dispositivo quindi proprio questo e iPhone 8 è quello è un dispositivo che sapremo valutare nelle vendite non nella prima settimana ma tra un anno esattamente come stiamo facendo adesso su 7 6S scenderà un pochino di prezzo eccetera è un dispositivo che e lo ribadisco da che è partito che per alcuni non aveva senso sicuramente trainerà di molto le vendite invece il 10 sarà la botta iniziale di tutti gli appassionati che lo spiegano poi è il 10 che dovrà conquistare il mercato secondo me più che gli iPhone 8 perché sono veramente solidissimi come soluzione e scusate per quanto riguarda iPhone 8 Claudio per me credo che abbiamo già detto tanto tra prodotto vendite e prospettive una nota abbiamo fatto il drop test su YouTube per quanto siano test empirici valgono quello che valgono eccetera eccetera penso che il marketing Apple definendo comunque il vetro più forte più resistente di sempre non ci abbia detto una fesseria ho visto un iPhone veramente maltrattato in modo sadico da Andrea Cervone resistere in tutti i modi sono contento perché un telefono tutto vetro insomma era uno dei problemi io mi ricordo quando uscì l'iPhone 4 c'era gente preoccupatissima insomma è è un dispositivo che comunque costa quel che costa tra l'altro sì sì ma tra l'altro sull'iPhone 4 anche a livello diciamo ingegneristico comunque di soluzione di costruzione sostituire il vetro posteriore era una gran fesseria bastava svitare le vitarelle di sotto accanto al connettore dock e il vetro praticamente scorreva esattamente come una back cover posteriore di un dispositivo con la cover removibile in quel caso poi si riapplicava un altro vetro e la storia era finita lì mentre sull'iPhone 8 a meno di romperlo e scorticarlo e poi attaccarne un altro diciamo sulla parte posteriore per accedere al vetro non è facile cioè o lo scolli direttamente oppure lo scolli è molto complesso toglierlo rispetto a rimuovere quello di quegli iPhone 4, 4S insomma mi riferisco chiaramente a quelli lì Claudio Giovanni non ti nascondo che alle scuole superiori ho cambiato con un sacco di vetri di iPhone 4 a gente insomma che me lo chiedeva li compravamo facilmente insomma su internet dal listino prezzi di Apple da quello che mi sembra di capire visto il costo esorbitante per cui chiedono il vetro dietro mi sembra di capire che il telefono non venga riparato cioè o quanto o meno non è come quell'altro quello aveva completamente il frame dietro questo il vetro è quasi un elemento strutturale del telefono e quindi non viene sostituito viene cambiato secondo me o tutto il telefono o quantomeno tutta la scocca ma poi cambiare la scocca vuol dire smontare il telefono da capapiedi per cui forse lo fanno ma anche perché credo che sostituire semplicemente il vetro con un altro vetro incollato diciamo così possa essere anche un problema all'ato impermeabilità quindi nel momento in cui fate un intervento da Apple io mi aspetto che Apple lo cambi il telefono per queste cose guarda Claudio visto quell'istino prezzi non può essere solo un vetro quindi e non può essere solo manodopera ti ricordi il prezzo per caso no ma era una cioè costava più del vetro anteriore e per cui qualcuno me lo deve quindi parliamo di oltre 250 euro sì sì era troppo il prezzo secondo me addirittura viene proprio sostituito ricordo che se non ricordo adesso potrei anche dire una fesseria ma quei temerari che in passato hanno provato a farsi cambiare una scocca veniva chiesto il prezzo pieno perché il telefono veniva sostituito quindi se 2 più 2 fa 4 molto spesso fa 4 non ho detto una fesseria molto spesso fa 4 vabbè ma se 2 più 2 molto spesso fa 4 io direi che se questa storia è finita Giovanni se su iPhone 8 non c'è più null'altro da dire se non il fatto che su alcuni iPhone 8 Plus due casi a Taiwan e non solo non mi ricordo il secondo caso perché l'ho letto di sfuggita poche ore fa è una cosa molto nuova diciamo come situazione in pratica la batteria ah no è inserito nello stesso articolo in realtà la batteria si gonfia a tal punto da far scollare il display anteriore insomma questa è una cosa molto interessante da notare secondo me si potrebbe trattare solamente di caricabatterie utilizzate per la ricarica che magari erano difettosi molto spesso per qualche iPhone esploso Giovanni non so se ricordi o comunque qualche iPhone che aveva dato qualche scarica di corrente alla fine si scoprì che erano stati utilizzati dei caricabatterie di terze parti ma non di terze parti buone terze parti brutte diciamo così cioè non non propriamente licenziati ecco diciamo così che effettivamente creavano problemi al dispositivo io per esempio non ho difficoltà a dire che ogni notte attacco il dispositivo a un caricabatterie che non è Apple ma di Belkin che è fatto apposta diciamo uno stand fatto apposta per mantenere l'iPhone in posizione di carica e lì sono tranquillo però se dovessi utilizzare il caricabatterie comprato dal cinese sotto casa senza offesa che magari può avere anche alcuni caricabatterie decenti ma molti altri no quelli da 1,50€ mi aspetto di non essere certo del risultato diciamola tutta Giovanni si 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 poi ripeto segnalano uno barra due casi ci sta ci sta ma no no poi adesso ormai tutto fa notizia ma purtroppo è uno dei pericoli delle batterie al litio si può scappare è importante che non sia un problema strutturale come lo fu per i Note 7 non pare insomma comunque Giovanni io dico l'ultima cosa sull'iPhone 8 che non ci siamo diciamo che non abbiamo concordato che fa quasi ridere ho scoperto tramite Coconut Battery in base al discorso di iOS devices che si può verificare anche in relazione allo stato della batteria che il mio iPhone 8 è stato prodotto il 21 8 2017 quindi ricordiamoci insomma gli iPhone 10 sono in produzione adesso quindi sicuramente Apple lo sa se ce la fa a soddisfare il lancio o meno si parla tanto del fatto che ci sono problemi di produzione a questo punto parliamo dei ritardi di iPhone 10 come insomma avevo scritto effettivamente ci saranno richieste secondo KG per 50 milioni di iPhone 10 e quindi ci saranno ritardi di mesi 50 milioni di richieste molto probabilmente non si avranno nella stessa mattinata del preordine però allo stesso tempo la grande richiesta anche col fatto che Giovanni secondo me fare un lancio così tanto a ridosso del Natale crea grossi problemi di approvvigionamento perché a Natale magari si è più propensi a spendere cerca un dispositivo nuovo c'è effettivamente una novità sul mercato la richiesta o meglio la domanda di sicuro aumenta e poi mette in crisi il ramo della produzione io non mi scordo non voglio dimenticarmi i problemi di produzione di Airpods che abbiamo visto dal lancio che hanno interdato il lancio e che quindi insomma hanno creato grossi problemi sono stati risolti solo qualche settimana qualche giorno fa addirittura si 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 sono passate a tre giorni di 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 attesa diciamo così prima della spedizione quando quando arriveranno a un giorno prima della spedizione usciranno le nuove Airpods e detto questo Claudio comunque pare che i problemi derivino dai sensori quelli quelli davanti preposti al al riconoscimento della scansione 3D del volto pare che questo sia il componente più delicato essendo quello nuovo è assolutamente verosimile che sia così e Claudio da iOS dai ciao da iPhone 8 ad iOS 11 qui no tu dici ma hanno fatto la WWDC a giugno che cosa avrete ancora da dire dai iOS 11 abbiamo da dire abbiamo da dire dai iOS 11 anche non poco allora qua mi serve una una spinta karmica tantrica e cioè mi serve una camomilla allora situazione iOS 11 iOS 11 è uscito ve ne sarete accorti e con sé ha portato le solite novità e i soliti problemi di gioventù che tra parentesi riscontro anche sul Mac piccole cose ma l'altro giorno per fortuna che avevo in macchina virtuale Windows cioè non dico per fortuna avevo Windows dal 2013 non pensavo di doverlo dire però purtroppo quando si aggiorna bisognerebbe sempre controllare la lista delle compatibilità dei programmi eccetera io ho aggiornato mi sono accorto che qualcosa non era più compatibile funzionante nel momento in cui mi serviva comunque detto questo iOS 11 è arrivato secondo me non è malissimo un po' di trend di batteria lo ha portato ma tutti mi danno conforto che era una situazione già emersa da moltissime beta più o meno siamo rimasti su quel livello voglio partire con una bella notizia ho degli ottimi feedback sulla prima beta di iOS 11.1 quindi come tutti gli anni benché sia una cosa tanto banale perché purtroppo il sistema operativo non è che può quando diventa punto zero è già pronto cioè se una settimana prima si chiamava beta non è che la settimana dopo per magia e spirito divino imposto sia tutto bello che perfetto sicuramente come tutti gli anni dovremmo aspettare la punto uno perché non è perfetto come tutti gli anni probabilmente stiamo anche recensendo e parlando delle autonomie degli iPhone su un sistema operativo punto zero che non è ancora strutturalmente perfetto per il resto non noto grandissimi problemi o grandissime situazioni ho letto un po' di commenti in giro ma mi sembra molto più la si stia facendo sempre un po' più grossa del previsto anche lato rallentamenti sui terminali più vecchi abbiamo detto mille volte che poi i terminali via via sono diventati più potenti lo avremmo avvertito di meno lo stiamo avvertendo meno un 5S li ho visti funzionanti con iOS 11 si non è iOS 6 con cosa uscì 5S il 7 iOS 7 non è il 7 ma tra l'altro 7.0 una delle versioni peggiori penso nella serie di Apple per cui vabbè ma si Giovanni è vero diciamo una cosa effettivamente quest'anno te lo dico diciamo per esperienza diretta gli iPhone rallentati effettivamente sono stati più o meno l'iPhone 5S e di sicuro rispetto allo scorso anno l'iPhone 6 che comunque rimane un dispositivo utilizzabilissimo non ai livelli dell'iPhone 6S che forse è il primo in questa line up dal punto di vista della velocità di esecuzione di iOS 11 però io non so tu però soprattutto su iPhone 8 su iPhone 7 ho utilizzato la GM e non mi sembrava che ci fossero questi problemi qualche volta nel momento in cui si sblocca la lock screen qualche volta appunto qualche volta e lo sottolineo un'altra volta qualche volta noto quei rallentamenti di micro lag che abbiamo visto duraturi lo scorso anno sull'iPhone 7 Plus l'iPhone 6S Plus quando si è aggiornato poi ad iOS 10 rallentamenti quindi cari di framerate che effettivamente sembravano non avere il grosso motivo di esserci ma che c'erano guarda sul mio 6S la cosa veramente è proprio stra ma poi mi dicono che sia su tutti i dispositivi e il 3D Touch nella nella Springboard veramente laggoso però è anche vero che molte versioni di iOS 10 anche avevano cioè in realtà non è mai stato iperfluido il 3D Touch qualche versione avevano sistemato poi come se si è tornati un po' indietro però è un problema che leggo che sia orizzontale un po' per tutti i dispositivi chi più chi meno vediamo ma sicuramente sono piccole cose che come abbiamo visto tutti gli anni vengono risolte non ce la faccio più di leggere il solito commento perché è sempre meglio il iOS dell'anno prima certo che è sempre meglio l'iOS dell'anno prima 10.3 che sia il 9 l'8 dell'anno prima è un sistema operativo che fino al giorno prima è stato sviluppato ha dietro quindi un anno e mezzo di sviluppo un anno più i 6 mesi di beta ed è ovvio che è super perfetto e super ottimizzato questo ne ha 6 mesi di beta solo dietro alle spalle con tutti gli anni è normale certo nella situazione ideale sarebbe meglio che uscissero un attimino dopo e io sono il primo ad essere d'accordo con voi qui c'è anche una scelta di marketing perché escono a settembre perché equipaggiano il nuovo telefono con il nuovo sistema operativo la gente compra la novità si compra anche le novità software ci sta è sicuramente una legge dettata un po' dal marketing questa sì è assolutamente così che non è ideale per quanto riguarda le prestazioni però come tutti gli anni abbiamo questo mesetto in cui iphone non è quella chicca di funzionalità sempre precise che funzionano bene ma diciamo che se proprio si volesse essere se si vuole essere pignoli ios almeno da quello che abbiamo potuto imparare un po' dallo scorso anno ma anche qualcosina dell'anno precedente diventa un buon sistema operativo con di rilasso di dicembre o fine di novembre con la versione punto uno del sistema operativo sì anche se c'è stato un anno adesso non ricordo se fosse stato il nuovo il 10 buco proprio mentale in cui anche la punto uno fu addirittura la punto due a portare veramente la maturazione io credo che sia stato l'anno dell'iPhone 7 Giovanni dell'iPhone 7 di ios 10 io ricordo che l'anno di ios 10 arrivò una versione buona di ios scusate non so perché dico ios 10 intendo ios 7 arrivò una versione buona del sistema operativo solo dopo febbraio quando poi arrivò effettivamente il profilo operatore per esempio di team che abilitava l'lte sul dispositivo perché l'iPhone 5 è uscito in Italia con l'lte chiaramente funzionava funziona tuttora in 4g però nello stesso tempo inizialmente non si poteva utilizzare quelle reti che c'erano già installate mi ricordo io in quel periodo dove avevo team dovetti aspettare il rilascio dell'aggiornamento operatore che avvenne pochissimo prima del rilascio di ios 7 più stabile diciamo così e che effettivamente poi fu un buon aggiornamento ho scavato un po' la memoria anche l'anno scorso in realtà 10.1 aveva risolto i problemi la .2 però andò ad aggiungere anche qualcosa in termini di fluidità di me lo ricordo bene almeno sul mio poi però si partiva sempre anche S10 la prima versione era un po' gre questa tutto sommato mi sembra già non ho notato grossi bug ripeto sono cose che si leggono tutti gli anni è una roba che quasi è stancante se uno è veramente fissato e non gliene frega di aspettare un mese per un altro per le novità il mio consiglio è sempre stato aspettala .1 se c'è qualche 5S in ascolto che è indeciso consiglio caldamente di aspettarla .1 ma giusto per avere un'esperienza che non ha questi cali per un mesetto che uno diceva vabbè però insomma per me finisce lì però non finisce qua per quanto riguarda il sistema operativo ci sono delle cose che hanno fatto discutere e non parliamo di iPhone X ne parleremo veramente tanto una di queste è il centro di controllo in settimana mi sono imbattuto in molto malcontento riguardo a delle funzioni del centro di controllo che è quella del Wi-Fi e del Bluetooth come sapete non so se vi siete accorti magari qualcuno non ci ha nemmeno fatto caso nel centro di controllo se premete sul relativo pulsantino di Wi-Fi e Bluetooth sopra vi dice disconnesso da perché in realtà non vi va a spegnere fisicamente i moduli Wi-Fi e Bluetooth ma vi scollega dai collegamenti esistenti dall'accessore esistente e dalla rete Wi-Fi esistente per molti allora per me è una funzione smart e se mi concedete 5 minuti vi spiego anche perché hanno fatto così però ho notato che per moltissime persone questa roba qua uno che non leggono disconnesso da non ci portano attenzione perché comunque in tutti i terminali anche nell'iPhone fino all'anno scorso così si spegneva il modulo e pensavano fosse così per molti era un bug quindi una funzione molto smart per molti è stata semplicemente ritenuta un bug forse Apple avrebbe dovuto spiegarla non lo so è sempre difficile poi spiegare al grande pubblico queste cose solitamente Apple ti dice imbraccia le mie soluzioni e fidati che serve e molto spesso poi la gente fa così questa sorta di fiducia verso quello che Apple propone magari a volte lì per lì non si capisce molto anche il perché il perché è presto detto allora premetto che c'è gente che si è fissata che è un bug che è schifo e quanto meno dovrebbero dare diritto di scelta premetto che se fate col 3 di touch su impostazioni potete entrare spegnerli se proprio li volete spegnere però perché funziona così? funziona era una era una classica domanda retorica Claudio no funziona così in maniera molto banale ragazzi allora innanzitutto a me come funzione piace un sacco perché io ho sempre wifi e bluetooth sempre accesi sempre e quando mi capita di disconnetterli è perché voglio disconnettere un device il wifi di casa mio particolarmente schifoso intanto si imballa quindi preferisco tornare in 4G eccetera eccetera mi succede non credo di essere l'unico in questo mondo che soprattutto per il wifi mi è successo spesso volte uno lo staccava però poi si dimenticava di staccarlo almeno io non lo so io non sono lì sempre a vedere cosa ho acceso cosa no e magari di farmi la giornatina in 4G di aggiornare le app chi se ne frega e poi i dati per quanto adesso le tariffe siano migliorate poi i dati quelli sono e magari di accorgermi che ero in 4G apri un video in YouTube fai là e poi ti accorgi che stai facendo tutto in 4G ehi giga si potrebbe cominciare a vedere anche un video facebook bla 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 vanno via abbastanza velocemente non credo di essere l'unico e tra l'altro bluetooth è la stessa cosa magari poi perdo end off o perdo continuity ed è uno dei motivi per cui apple non ve lo fa spegnere più in maniera così semplice qual è la razio e sarò brevissimo che molti non hanno capito anzi veramente pochi forse hanno capito e mi rendo conto che non è immediato mi rendo conto che a molti possa anche non fregare però è una funzione smart e la funzione è quella wifi e bluetooth ormai sono dei moduli che apple usa per la connettività per di varie funzioni cito end off continuity non disturbare la guida che a vario titolo utilizzano wifi e bluetooth o una o l'altra magari hanno realizzato gli ingegneri che molti come me dato che utilizzano queste funzionalità hanno sempre wifi e bluetooth acceso e lasciano al telefono a collegarsi al wifi di casa a quell'altro a quell'altro al mac all'ipad in base a quello che serve e è lì che tu vuoi staccare tutto ed è un altro e lo fai quindi qual è la razio ovviamente i moduli perché servono a tutte queste funzioni riconoscere che soprattutto e questo poi lo voglio dire uno perché lo stacca perché pensava di risparmiare chissà che come batteria da wifi e bluetooth io da quando i 6s non li ho mai staccati all'inizio l'anno scorso pubblicavo anche i miei test di batteria sono stati dei giorni che riuscivo a fare veramente tanto magari non di uso intensissimo con tutto attivo sempre tutto e non ho mai staccato nulla per cui soprattutto per il wifi per il bluetooth ma anche per il wifi se non sono collegati a nulla fanno semplicemente un discovery la quantità di batteria che state consumando è irrilevante quindi a fissarvi a staccare a chiudere tutto perché queste funzioni nascono proprio dal perché tanto che non serve quando vi mettete la modalità di risparmio batteria nemmeno loro per la bisogno di batteria e almeno il telefono volete tenerlo acceso sia minimo è quella che consuma di più voi siete lì so che c'è gente che si disattiva il servizietto notifica localizzazione abbassate la luminosità saprete risparmiare punto e allora lì staccate anche i dati e va bene però insomma quante volte succede quindi la razza è questa tenere quei moduli che servono accesi semplicemente e poi è molto smart soprattutto il wifi a me è servito molto io mi stacco dal wifi perché non mi sta funzionando poi se il telefono rileva scusatemi che mi sono spostato per esempio da caso sono andato in ufficio me lo riattiva oppure alle 5 di notte dove io mi sono scordato ormai che non voglio più stare col wifi e magari sarei stato come dicevo prima tutto il giorno dopo senza lui me lo riattiva oppure se premo o di nuovo lui me lo riattiva quelle che noi le abbiamo anche pubblicate queste wild lines di Apple in cui spiegava quando viene riattivato cosa eccetera eccetera però lì per lì boh mi rendo conto che non sia proprio immediato noi siamo sempre stati abituati da sempre a sto benedetto che è così no che dappertutto li spegna poteva sembrare no una cosa un po' strana alle 5 di notte ma perché Giovanni diciamo che in realtà è una funzione molto smart sì boh mi rendo conto che per qualcuno possa anche non servire il mio consiglio è non fatevi troppi problemi se rimangono un po' accesi e non sono connessi a nulla veramente il consumo è minimo barra trascurabile e se lo volete spegnere potete andare di 3D touch su impostazioni questa era una grande discussione secondo me queste funzioni sono comunque state pensate in ottica deve funzionare it works sì che la apple di Steve Jobs amava tanto come concetto quindi il discorso che una cosa che debba funzionare è giusto è giusta giustissima non capisco a questo punto il toggle dati cellulari che senso abbia te lo dico proprio in maniera semplice non voglio fare polemiche che c'è chi se ne frega per quello che decide apple lo decide apple un altro po' però sì 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 claudio ma lo sai benissimo no quando tutte le volte che usciva un nuovo ios mancava questo pulsante c'era là eh ma i dati cellulare e noi dicevamo giustamente ma è un iphone ma quando mai lo staccate quelle 10 volte all'anno i dati cellulare come dicevo prima magari quel momento in cui siete proprio a corto di batteria vi deve durare al massimo io almeno lo faccio solo in quella circostanza lì che devo segare tutto proprio bisogno che quel telefono sia solo acceso magari per raggiungibilità in emergenza allora lì stacco dati cellulare stacco qualunque cosa abbasso la luminosità al minimo e mi faccio una preghierina e lo tengo lì e boh va bene metti anche il risparmio energetico adesso e qualcosina dura va bene per il resto le scelte in ambito energetico a parte che i nuovi hanno anche il modulo bluetooth 5.0 cioè se alitate consumate più batteria cioè veramente non serve più che altro è funzionale è smart per esempio vi ho fatto l'esempio del wifi mi rendo conto che però a volte sia di difficile compressione perché io mi sono sempre ritrovato lì e col wifi che poi lo spegnevo vedo sta cosa è la prima cosa che penso non è che mi vanno aspetta forse hanno fatto così per end off per continuity poi ci sono tanti che hanno l'iPhone e basta e penso sia addirittura un bug quindi è una funzione tanto smart però dato che c'è siccome c'è gente che fa il podcast di iPhone Italia che vive per spiegarvi queste cose allora diamo un senso a tutto l'universo e chiudiamo questo cerchio con Apple non l'ha spiegata ma ve la spieghiamo noi quindi adesso quando vi diranno che è un bug voi vi mettete lì gli fate tutto lo spiegone e se loro dicono ma secondo me non ha senso lo guardate con aria compassionevole mi raccomando compassionevole lo guardate e dite beh magari se ci fosse di fronte a te un ingegnere Apple direbbe che quello che sta dicendo cose senza senso magari sei tu staccia andiamo avanti e comunque continuiamo secondo me con a questo punto l'evento record di Apple Watch perché Apple Watch è uscito in una versione 3 in queste settimane ed effettivamente le vendite di Apple Watch sono sono cresciute chiaramente nel corso di tutto l'anno arrivando a 33 milioni di dispositivi venduti globalmente di cui 15 milioni sono negli ultimi 12 mesi questo è un report di una società analitica chiamata Asmico Asmico ci dico bene ed effettivamente è molto interessante capire scoprire il fatto che queste tipologie di dispositivi sono molto acquistate in considerazione del fatto che addirittura l'Apple Watch ha superato quello che è ed era ed è l'industria diciamo una delle aziende più famose di orologi premium al momento esistente sul mercato è proprio diciamo Rolex quindi ha superato Rolex posso confessarti una cosa voglio fare una confessione in diretta settimana prossima è il mio compleanno ah già che ci sono potrei avere dei problemi a registrare il podcast così mettiamo al corrente tutti e perché parto venerdì e quindi potrei anche non esserci settimana prossima e a parte questo dato che me ne vado in Campania e sicuramente mi farò una passeggiata al centro Campania dove c'è l'Apple Store potrei anche decidere di farmi un regalino e devo dire che mi scoccia da morire il fatto che non possa comprare il modello LTE poi magari non lo so adesso l'ho detto così perché io vorrei quello quindi se uno lo compra adesso e poi magari l'anno prossimo fanno il modello con LTE quanto quanto rosico questa è una delle domande che mi sto facendo comunque a parte questo però tutto sommato ci sto pensando e quindi ti dico che secondo me è maturo se io ci penso vuol dire che quantomeno per me è un prodotto che sicuramente ha fatto dei passi in avanti anche lì vedi è partito che sembrava un mezzo flop poi riconsiderato nell'ottica comunque di un accessorio perché nella galassia Apple abbiamo detto è un accessorio e tutto sommato secondo me si sta togliendo le sue soddisfazioni però niente mi toglie dalla testa che sarà un altro di quegli accessori barra prodotti comunque dallo sviluppo lungo sarà sviluppato sarà tenuto aggiornato anche se mi dicono però che Twitter ha eliminato l'applicazione era una che venne mostrata alla prima presentazione questo un po' mi sconfinfera devo dire la verità anche se mi dicono che facesse quattro cose in croce fosse anche piuttosto inutile però è un po' mi spiace un po' mi spiace comunque non è un bel segnale se c'è comunque il secondo terzo social network del mondo ti abbandona non è che sia proprio il top non so se poi esiste qualche altra applicazione non ne ho idea non avendo non sono così informato devo dirvi la verità vorrei chiederlo a Claudio ma ho l'impressione che non lo sappia nemmeno lui tu lo sai Claudio ma io questo silenzio li conoscevo già e niente comunque a parte questo però devo dire a me piace secondo me bravo Apple Watch dai gliene abbiamo dette troppe dai mi sento quasi in colpa gliene abbiamo dette così tante che secondo me però l'LTE è una cosa non mi sce Claudio non mi sce guarda dalla presentazione ho questo nodo alla gola che mi fa mi fa pensare peccato d'altra parte e chiudo su Apple Watch è vero che il modello LTE mi avrebbe messo veramente in crisi d'altra parte conoscendo gli operatori italiani ve possino e altre cose non posso dire già mi immagino bello il piano dati infiocchiettato a supporto che quanto meno quanto meno mi avrebbero fatto spendere altre 10 euro in più al mese quindi dato che io il telefono poi ce l'ho sempre in tasca continuerò a rispondere col mio telefono e teneteveli pure anche perchè non facendo tutto questo grande sport all'aperto devo dire che non andando in canoa come quella tipa lì che ha fatto la presentazione di Apple dai tutto poi è relativo tu come ti stai trovando Claudio col tuo non te l'ho mai chiesto senti Giovanni io mi sto trovando molto bene ne abbiamo parlato in un'altra puntata mi sto trovando molto bene in alcuni casi diventa lasciami passare il termine un po' ingombrante perchè non dico che crea dipendenza il fatto di utilizzarlo perchè no ci mancherebbe altro però nello stesso tempo mi rendo conto che è uno di quei dispositivi che una volta che si utilizzano farne a meno è possibile ma diventa sempre più complesso io prima in casa non indossavo un orologio per quanto in realtà io sia assolutamente appassionato a questo mondo ed effettivamente mi sono trovato insomma molto molto bene nell'utilizzarlo e adesso in casa anche se non esco per esempio capita di non uscire una mattina lo indosso comunque per avere le notifiche del dispositivo che poi magari tipo l'iPhone rimane sul comodino o qualche volta in carica o da un'altra parte rispetto dove mi trovo e quindi ho meno preoccupazioni circa il fatto di portarmi dietro sempre il telefono diciamo così per quanto riguarda il discorso del fitness magari al chiuso ha meno senso che all'aperto senza GPS ha meno senso rispetto ad averlo con il 4G ha più senso che senza sì siamo d'accordo tutte cose sensatissime scusate il diciamo la parola che ricorre però effettivamente io credo che sia uno di quei dispositivi che vanno provati prima di giudicarli totalmente e mi dispiace anche il fatto di averne parlato non dico male ma averlo snobbato per tanto tempo non dico avendo paura quasi della novità perché non è questo il discorso ma avendolo sottovalutato prima di provarlo di conseguenza io è un dispositivo che consiglio sicuramente a chi è un po' più in movimento a chi perde spesso qualche notifica o comunque vuole avere qualche informazione più rapidamente ma nello stesso tempo è un dispositivo che persone meno appassionate possono sicuramente evitare di averlo evitare di acquistarlo comunque evitare di utilizzarlo in generale è uno di quei dispositivi che averlo è bello quando lo si ha si capisce qual è il suo valore ma quando non lo si ha magari non lo si cerca ecco vediamo dai che sviluppi avrà nel prossimo futuro prossimo futuro che ma tra l'altro scusatemi siamo già a 50 minuti però questa notizia questa notizia merita forse merita anche più di una considerazione ci troveremo a farle sicuramente nel futuro Apple ha tutta indipendenza diciamo che io ho titolato nelle mie note per il podcast perché da un po' di settimane diciamo che stiamo andando un po' meno abbraccio ma sempre comunque sempre comunque con scalette molto variabili in base a quello che ci va di raccontare Apple ha tutta indipendenza ho titolato perché ho messo insieme un po' di notizie effettivamente è passato molto in secondo piano moltissimo in secondo piano troppo in secondo piano il fatto che questa super sock la 11 bionic che è super cool come nome per la prima volta anche una GPU realizzata da Apple se ne è parlato molto poco perché fa molto poco figo però è un bel passo in avanti perché dalla CPU siamo passati alla GPU poi abbiamo pubblicato una notizia che Apple adesso vuole farsi anche i propri modem svincolandosi da Qualcomm e Intel i propri modem per la connettività e poi abbiamo letto che in una join joint venture comunque in un gruppo di aziende che adesso al 99% comprerà Toshiba e quindi metterà un po' le mani sul mercato delle memorie NAND tra l'altro il prezzo degli ultimi iPad ci dicono si è aumentato proprio a causa dell'aumento delle memorie NAND tra l'altro Apple ha firmato un accordo con Japan Display che è sempre in ballo per cui i display del prossimo anno perché continueranno a fare LCD questo presuppone che comunque il modello iPhone più modello X potrebbe continuare a valere anche nei prossimi o almeno nel prossimo anno e con una super nuova tecnologia di un display LCD super sottile bla 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 e quindi Apple ha messo le mani e tra l'altro poi è previsto che Japan Display cominci anche a fare nel 2019 anche dei display OLED anche sui display praticamente Apple sta cominciando a rendersi conto che fa talmente tanti volumi su questi dispositivi che forse se alcune robe è meglio che cominci a a produrre o comunque a controllare la filiera direttamente è la classica decisione che nel business si chiama di make or buy quando voi avete un'azienda e dentro avete una sala mensa dovete decidere se vi conviene assumere un cuoco e farvi la mensa da voi oppure chiamate una ditta di catering e vi faccia la mensa quale costa di più non è banale è una questione poi solo di costi no non è solo una questione di costi ma anche di approvvigionamento perché se la fabbrica è vostra ve la fate solo per voi se il fornitore è un altro vi può prendere per la gola tipo come ha fatto Samsung per i display OLED comunque siete soggetti alle disponibilità di molteplici fattori no comunque ci sono altri che comprano eccetera sono decisioni che impattano molto però devo dire la verità Apple ormai ha il suo hardware sempre customizzato però un Apple che comincia veramente a fare l'hardware da sé è un passo in avanti rispetto all'Apple che conoscevamo noi molto molto in avanti Giovanni addirittura nelle ultime ore anche in base a tutte queste analisi che giustamente stai facendo sta tornando in auge la possibilità o meglio il rumor secondo cui Apple stia veramente preparando dei Mac ARM che vorrebbe dire semplicemente trasportare cioè trasporre installare su dispositivi che chiaramente non hanno non avrebbero quel parco software che al momento hanno dispositivi che sono di classe desktop quindi MacBook di vario genere una piattaforma che di sicuro diventa molto potente in poco spazio e quindi MacBook 12 che potrebbe diventare molto più potente con uno schiocco di dita ma che soprattutto può diventare molto meno energivoro di quanto lo sia adesso certo poi applicazioni ARM based è vero che non le hai è vero che il sistema operativo si può sempre fare però poi comunque avresti una base cioè io ho sviluppato cioè un LumaFusion che ha recensito Andrea che gira su iPad Pro beh te lo sostituisce certo non ti sostituisce magari Final Cut ma Final Cut Apple potrebbe anche riscriverlo per ARM è suo però magari ti sostituisce per quegli utilizzi da Windows Movie Maker o iMovie che sia e ci sono applicazioni che ormai non dico che sono Photoshop assolutamente ma per degli usi medi lo sostituiscono sì quindi devo dire è un po' come Remix OS quel sistema operativo basato su Android che poi su cui è possibile far girare le app Android Apple potrebbe fare più o meno lo stesso chi lo sa diciamo che ormai abbiamo capito benissimo non so se c'è qualcuno che ancora si illude del contrario ma noi abbiamo sempre cercato di spiegare quello che era abbastanza inverosimile ovvero dell'adozione di iPad con Mac OS siamo invece passati ad una probabilità di un Mac con iOS una sua versione sicuramente c'è del lavoro ancora da fare ancora siamo alle prime Apple ha fatto un bel lavoro per quanto riguarda iOS 11 su iPad devo dire che volevo spendere due parole su file ma lo faremo settimana settimana prossima insomma poi oggi veramente abbiamo parlato di un sacco di robe sicuramente è un'applicazione che può dare tanto e verrà sicuramente continuata verrà sviluppata in futuro potrà dire tanto che poi che bella questa cosa di sicuro potenzierà diciamo le possibilità che adesso ci sono su iOS anche il passaggio tra il mondo Mac e il mondo iOS di sicuro sarà sempre più semplice da fare ma già adesso guarda che bello io ho le note davanti c'è un elenco puntato poi in base a come vengono fatti c'è Claudio Sardaro in questa nota condivisa che me le spunta io vedo apparire la spuntina con tutta l'animazione e queste sono quelle piccole stupidaggini per carità ma veramente niente di che comunque poi io riconosco quella Apple che noi che noi tutti conosciamo Claudio Giovanni io per questa settimana credo che abbiamo toccato un'enormità di temi chiaramente il mondo Apple è un po' diviso in questo momento tra il presente e l'immediato futuro e sicuramente avremo modo di parlarne ancora chissà per quanto di quello che sta per arrivare diciamo che Apple sta cercando di fare quel passo che la porta verso il continuo successo e non penso penso insomma non verso un lento declino che tanta gente tante persone tantissimi commentatori e forse anche noi per un certo periodo abbiamo pensato potesse essere possibile ma che nel frattempo Apple sta cercando di evitare eh sì eh sì eh sì sono tanti temi tanta tante tante cose veramente che ancora avremo da raccontare su iOS nelle prossime puntate ce ne sono molti molti temi questa Apple è in declino sta semplicemente cambiando questo forse è una delle prime volte che anticipiamo addirittura una puntata successiva del podcast però credo che la prossima volta ne ne parleremo più compitamente anche di questo aspetto Claudio per questa settimana è tutto ti ringrazio sempre ringrazio a te Giovanni con noi grazie per la bella introduzione insomma che hai fatto Madi Claudio Claudio te la meriti detto questo ragazzi io veramente non lo so perché poi non lo so se ci sentiamo settimana prossima tra due vediamo vediamo e comunque mi raccomando fate i bravi ti saluto Giovanni comunque vi auguro una buona settimana e vi auguro che la vostra squadra del cuore vi possa togliere delle soddisfazioni ciao ciao a tutti ragazzi grazie a tutti Grazie a tutti.